A Cervetri è stato aperto lo sportello antiviolenza, lo chiediamo al sindaco Elena Gubetti, che funzioni avrà? Sì, un grandissimo risultato, da oggi tutte le donne di Cervetri sanno che a via dei bastoni 64 c'è un luogo dove possono rivolgersi se hanno bisogno di aiuto di qualsiasi tipo, donne vittime di violenza, violenza fisica, psicologica, insieme ai loro figli si possono rivolgere al nostro centro, contattandolo anche telefonicamente sette giorni su sette, in modo da ricevere tutta l'assistenza necessaria legale, psicologica, medica, possono essere portate in delle case rifugio qualora ce ne sia bisogno, quindi da oggi le donne di Cervetri devono sapere che non sono più sole, che Cervetri c'è ed è vicino a loro.